Oggi vediamo un sistema che si chiama Node-RED che è già installato sul Raspberry, vedremo come attivarlo. È un sistema per programmare il Raspberry graficamente con un sistema particolare che utilizza dei messaggi, delle code e soprattutto immagino che lo apprezzerete molto perché è molto potente e soprattutto è grafico. Iniziamo subito. All'interno del vostro Raspberry Node-RED è già installato. Cliccate sul lampone, andate sotto Programming e qui trovate Node-RED. Cliccate sopra, si aprirà una console e il sistema partirà. A questo punto potete semplicemente aprire un browser, io apro quello interno del Raspberry e puntarlo all'indirizzo che vedete qua. Potete usare Localhost se siete sullo stesso Raspberry oppure potete prenderlo anche da fuori, adesso vedremo come. Se sono sul Raspberry posso fare così, localhost 2.1880, faccio invio ed ecco partire subito il nostro sistema. Se il vostro Raspberry è in rete potete prenderlo da qualsiasi altro computer tramite un browser. Che cos'è Node-RED? È un sistema di programmazione visuale, penso che a molti di voi piacerà questo sistema, dotato di tantissimi blocchetti che potete collegare tirando dei fili. Quindi gestite un flusso di messaggi, quindi a seconda di eventi, di quello che accade, potete andare a realizzare un software semplicemente collegando blocchettini. Si possono fare anche cose molto complicate, addirittura avere delle console ideali per progetti magari IoT. Tra l'altro lo potete installare su qualsiasi computer, ma sul Raspberry in particolare potete accedere ai PIN del Raspberry direttamente da qui. Adesso faremo un esperimento. Oppure se avete un Arduino programmato in modo particolare, lo vedremo tra qualche video, collegarlo e pilotarlo direttamente tramite il Raspberry. Per l'esperimento di oggi ci serve collegare al Raspberry un pulsante e un LED. Quindi avrete il vostro Raspberry. Andremo a collegare un LED, qui li metto come uno schema elettrico, usate la resistenza da 220 Ohm, un LED colore a piacere. Questo lo colleghiamo a Ground, adesso vediamo che PIN usare. E poi ci servirà un pulsante per far accendere il LED quando premete il tasto, quindi proprio una cosa scema, si poteva fare anche senza tutto sto casino. Comunque, il nostro pulsante lo colleghiamo in modo classico, quindi con un resistore da 10K, un pulsantino che mettiamo qui, pulsantino collegato al 3,3 Volt. Dove troviamo questi PIN? Usate il sito pinout.xyz. Vedete qua abbiamo il PIN 1 e l'alimentazione 3.3, il Ground lo troviamo sul 39, quindi sono i due estremi. Useremo per il LED il 21 e per il bottone il 20. Quindi abbiamo detto il LED 21, il bottone il 20. Per il Ground, lo metto qua, è il 39, mentre per il 3.3, lo facciamo qua in rosso, è il PIN 1. Realizzato questo circuito possiamo passare al nostro nodo RED. Come vi dicevo prima, non è necessario andare sul Raspberry, quindi una volta che l'avete acceso, lo prendete da qualsiasi parte sulla vostra rete. O vi ricordate il suo indirizzo IP, altrimenti potete provare con Raspberry PLocal 2.1880. Faccio invio ed ecco apparire Node RED, la console di programmazione. L'ambiente è molto semplice, sulla destra avete tutte le possibili caselline, quindi possibili funzioni, controlli che potete utilizzare. La parte centrale dove componete i vostri flussi e sulla parte di destra abbiamo un pannello con le proprietà, eventualmente una console per il debug. E qui sopra abbiamo invece dei pulsanti per andare a fare il deploy, quindi attivare il flusso o farlo ripartire. E un menu per importare, esportare e eventualmente salvare i flussi. Iniziamo subito creando il flusso per accendere un LED premendo un tasto. Scorriamo la colonna di sinistra. Qui andiamo a prendere questo blocchetto RPA GPO che è un punto di partenza. Vedete il flusso va sempre da sinistra a destra, quindi non ho niente in ingresso, ho un'uscita, quindi lo mettiamo da qualche parte. Prendiamo invece un pin di uscita, quindi questo qua, e lo trascino in questo punto. Vado a collegarli, quindi mi porto su questo pallino, clicco e tiro. Esce questo elastico, lo lascio andare sull'altro pallocchio e ho collegato un ingresso con un'uscita. Ora configuriamoli, vado sul primo pallocchio, faccio un clic, doppio clic e si apre magicamente una finestrella con tutti i pin del Raspberry. Il mio ingresso era sul pin 20, abbiamo detto, quindi questo qua, clicco una volta. Qui mi chiede se c'è un resistore interno di pull up o pull down, mettiamo non perché è il nostro esterno e possiamo lasciare tutto così. Facciamo done ed è a posto. Andiamo sul pin di uscita, doppio clic. Qui dobbiamo dire qual è il pin a cui è collegato il nostro led, che è il 40, quindi lo selezioniamo. È un'uscita digitale, lasciamo tutto così. Eventualmente possiamo inizializzare il pin e dire portamelo quando parti a livello basso. Facciamo done e tutto è pronto. Clicchiamo su deploy. Il flusso viene attivato. A questo punto premendo il pulsantino sulla breadboard il led dovrebbe accendersi. Quindi tutto molto semplice. Ma posso salvare tutto il lavoro che ho fatto cliccando sulla parte destra, faccio export, clipboard, faccio current flow in modo che ci sia tutto. Facciamo download. Viene salvato il file del flusso. Lo salviamo dove preferiamo. Per ricaricarlo basta tornare sul menu. Faccio import. Faccio clipboard. Selezioniamo un file da importare. Faccio apri. Faccio import. Il file mi viene caricato in un nuovo flow. Eccolo qua. Node-RED è veramente affascinante della potenza. È necessario magari un po' di tempo per capire come funzionano i blocchetti, come sono le logiche. Una volta che siete entrati nel suo ambiente però vedete che vi sarà di grandissimo aiuto perché poi si possono anche realizzare delle dashboard, cioè delle interfacce grafiche, dei pannelli che possono darvi lo stato dei sensori e visualizzarlo con tutta una serie di indicatori. Lo vedremo nei prossimi video. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao. Ciao.